Siamo nel pieno di una crisi energetica, quindi il buon senso dovrebbe far pensare a chi ha i mezzi per poterlo fare di diventare il prima possibile indipendente dal punto di vista energetico. Perché devi sapere che anche se nel nostro paese i blackout sono abbastanza rari, la stessa cosa non si può dire per tanti altri paesi d'Europa. Quindi amico mio, se hai le possibilità e non le hai ancora affatto, non perdere altro tempo. Informati su come avere il tuo impianto fotovoltaico e diventare indipendente il prima possibile dal punto di vista energetico. Perché più andremo avanti più diventerà qualcosa di necessario se vogliamo continuare a condurre uno stile di vita al quale ci siamo tutti più o meno abituati. Ciao a tutti da Marco Fai, tu esperto alle fotovoltaico.